Intensificata l'attività della Polizia di Stato nel periodo prossimo alle festività natalizie, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, nel capoluogo e in diverse zone della provincia, i poliziotti hanno segnalato complessivamente 12 persone all'autorità giudiziaria. In quattro sono stati denunciati per minacce e in tre per atti persecutori. Per furto aggravato è finito nei guai un 23enne, mentre a carico di un ventenne è scattata la denuncia per resistenza pubblico ufficiale. Una segnalazione per porto d'armi o oggetti atti ad offendere è stata effettuata nei confronti di un 28enne. Infine due segnalati per evasione dagli arresti domiciliari.